Buongiorno, Presidente. Adesso andiamo all'interno e mi auguro che sia una buona giornata per il Paese. C'è una posizione comune di 5 Stelle che sarà trovata. Buona giornata a tutti, grazie. E a me rimarrà? Buona giornata. Ascolterete qui il solo quello che dirà Draghi e poi deciderete. Buona giornata a tutti. Chi pensa che sarà una buona giornata? Questa è una giornata che richiede la responsabilità da parte di tutti, una responsabilità che permetta al Paese di avere un governo che possa procedere sotto la guida del Presidente Draghi e rispondere a quelli che sono i bisogni delle cittadine e dei cittadini. Una buona giornata questa? Buongiorno, vediamo. Buon lavoro, grazie. È una bella idea ancora? Buone cose, a dopo. C'è fiducia nel governo che si possa proseguire. Grazie, compa nostra. Ci dica solo se sarà una buona giornata per il Paese, solo questa? Sì, sicuramente. Ciao. Grazie.